Il censimento arriva nelle scuole. Questa mattina l'assessore alla statistica e ai servizi demografici Bernardino Tuccillo e l'assessore alla scuola Anna Maria Palmieri hanno partecipato all'estrazione dei premi del concorso Partecipa al censimento 2011, organizzato dall'ufficio del censimento di Napoli in collaborazione con la sede territoriale Istat della Campania, rappresentata dal dirigente Angela Maria Di Grandi per le scuole che si sono meglio distinte nella compilazione online dei questionari del censimento 2011. L'obiettivo del concorso nelle scuole è stato quello di chiedere ai presi della collaborazione per informare gli studenti sull'importanza del censimento e per coinvolgerli nel promuovere la compilazione dei questionari via web. Numerosi i premi messi in palio per le scuole che si sono particolarmente distinte nella compilazione, dai biglietti per assistere alle partite del calcio Napoli a computer portatili, videoproiettori e libri. Noi abbiamo dal punto di vista statistico ormai una tradizione di collaborazione di eccellenza con le scuole di Napoli. Hanno fatto dei lavori meravigliosi per i 150 anni e per questo motivo abbiamo avuto fiducia di investirli in un'operazione come quella di motivare il resto della popolazione di Napoli alla compilazione online dei modelli di censimento. Abbiamo fatto la formazione nel momento in cui questi questionari loro ce l'avevano in casa e sono stati ben contenti di fare da filtro rispetto ai genitori che rinviavano quest'operazione a serate migliori, a maggiori approfondimenti. Sono stati i tutor dei loro genitori quando non sono stati loro stessi a compilarlo al posto dei grandi.